Uomino! Chiamatevela! Chiamatevi! Questo è un'unità verità. Due uomini in mare! Vi avvicinano da sinistra, comandate! Affondiamo il ferro, nemico, senza pietà. Ma l'uomo, l'uomo lo salviamo. Nella cala del nostro uomo... Tra cinque minuti saremo a tiro, tra cinque minuti ne fondarà! Se ci mergiamo con l'internet, affogano come topi. Cavi d'ancoraggio per mine. Che cazzo passato! Macchine dietro, merda! Dobbiamo andare giù. Mi prendo tutta la responsabilità. Sensuikan, comandante. Hocori, takaki, chiedad. Buongiorno a tutti.